devo dire che è stato un derby quello della capitale che è veramente difficile da analizzare ma semplicemente perché è stato viziato pesantemente dell'espulsione di Bagnets al 32esimo del primo tempo quindi per più di un'ora la Roma ha giocato in 10 e ha attuato una tattica giustamente un po' difensivista per far fronte a una Lazio che comunque insomma soprattutto nel secondo tempo ha dominato pesantemente quindi veramente è tosta dire qualcosa di significativo perché non c'è stata partita però voglio andare oltre, voglio andare oltre a analizzare un tema che riguarda la Roma che secondo me è essenziale voglio sbicare la pratica Lazio dicendo che ha comunque molto meritato la vittoria prendersi qualche rischio e magari avrebbe potuto essere una vittoria un po' più ampia quindi la squadra bianco celeste avrebbe dovuto secondo me fare quantomeno un gol in più per evitare insomma eventuali problematiche contanto che appunto per più di un'ora ha giocato in 10 scusate in 11 contro 10 appunto per l'espulsione di Bagnez ma veniamo al discorso Roma uno dei problemi della Roma secondo me è il discorso della difesa una volta su OCV Sport feci questa domanda a uno tifoso della Roma dissi ma che ne pensi della difesa? I Bagnez, Smalling, Mancini a me onestamente non piace non piace perché allora I Bagnez e Mancini io li reputo giocatori bravissimi ragazzi eh però stupidi tatticamente stupidi tatticamente soprattutto un I Bagnez che insomma è già un miracolo che stia a Roma ma non ha fatto un minimo di crescita onestamente quest'anno fa 25 anni ma fa ancora errori di istintività che ragazzi no contestualizzati in una Roma magari può essere un ottimo difensore per una squadra di medio-bassa classifica ma per la Roma no I De Mancini Mancini è un difensore che ormai non è più da considerare un giovane ma che ha quell'istintività secondo me un po' stupida si è di Miral e a volte Skriniar quindi quell'istintività ma ripeto poca intelligenza tattica sbagli fuorigioco, sbagli alle posizioni, sbagli alle linee spesso si fa infilare e ti fa fallo, provocatore sempre a cercare, d'accordo che era il derby però l'abbiamo visto anche contro Juventus con Ken insomma un po' i capelli attirati insomma hanno un approccio sia Mancini che Bagnes che personalmente non mi piace per niente in più Smalling Smalling che in questa difesa in questa difesa è il baluardo ma è stato per tempo riserva il Manchester United e non stiamo parlando del Manchester United con Peter Schmeichel, Nevy, Lirvin, Berg, Jonsen con Keane, con Scholes, con Geeks, con Beckham, con Andy Cole e con Teddy Sheringham oppure Babyface Killer o Leguna Solskjaer stiamo parlando di un Manchester che era già in fase calante che poi c'è stato in prestito il giocatore alla Roma la Roma l'ha riscattato ma non facciamo passare Smalling per un campione Smalling vale secondo me, a mio parere, un po' più di Kier e quando lui è chiamato a insomma a governare la difesa può starci perché è un elemento esperienza ma quando poi è vicino hai due giocatori ripeto stupidi tatticamente come Mancini e come i Bagnes va in difficoltà un derby che negli ultimi minuti poi si è nervosito per l'espulsione di Marusic, di Cristante la Lazio qui ha sbagliato cioè nel senso secondo me Saris sarà incazzato come una Iena perché tu metti dentro cancellieri basici in due minuti si fanno entrambi a munire per motivi stupidi cancellieri ha buttato la palla in curva vabbè è giovane ma queste cose deve evitarle ma tornando a Roma è questo il problema fondamentale cioè tu devi avere una difesa devi avere una difesa è una cosa che ha fatto Foti che non mi è piaciuta molto cioè tu metti Llorente Llorente ti ha salvato un'azione offensiva della Lazio che era clamorosa tu cosa fai? lo togli per mettere Sciarawi e lasci in campo ancora Mancini ma veramente veramente cioè un Diego Llorente è considerato meno di Mancini ok poi le fasce della Roma stasera non sono state molto precise sia Spinazzola che Zalewski Zalewski ha rischiato sull'ultimo fallo adesso non mi ricordo su chi l'abbia fatto però insomma ha rischiato anche il secondo giallo poteva far rimanere la squadra in nove ma le fasce non hanno reso certo è vero che nel secondo tempo giocavano con un 5-3-2 puro non con un 3-4-2-1 ma scusate con un 5-3-1 perché poi erano in dieci con un Belotti che doveva fare a sportellate ecco lì magari avrei lasciato Belotti piuttosto che Abraham Belotti sono questi i partiti Belotti deve fare sportellate e farse i ricompagni ha fatto così per anni al Torino segnando non lo so 20 gol in 3 anni però quello lo lo sa fare bene quel tipo di gioco quindi io onestamente l'avrei tenuto in campo Pellegrini boh per stazione un po' così ma un po' la Roma ha reso male forse non l'avevi tolto Di Bala io magari l'avevi tolto Wijnaldum rischiavi avevi questo Di Bala che avrebbe fatto un pochino una spola tra il centro campo e l'attacco ma salvo problemi fisici tu un po' di fantasia devi averla in mezzo al campo cioè devi assolutamente averla e quindi lì magari ha mancato un pochino la Roma quindi ripeto per l'anno prossimo la Roma è chiamata a risolvere questo problema in difesa non soltanto per la Rosa un po' corta ma proprio per i titolari proprio per i titolari e andando a vedere la classifica la Lazio va a 52 e sta esattamente a i conti meno 19 da Napoli prima era meno 21 ora sta meno 19 e oggi dipenderà tutto come vi ho detto prima nel video del pomeriggio da Inter-Juve perché se l'Inter dovesse perdere rimarrebbe a 50 e qualora il 19 aprile dovesse ridare i punti alla Juventus ecco che la Juventus andrebbe anche sopra ulteriormente sopra l'Inter e sarebbe dura cioè nel senso e giustamente staccherebbe anche di molto a Roma quindi staremo a vedere quindi questa è la mia lettura del derby venendo un pochino Lazio ok la Roma anche lei rischia e non rischia perché ragazzi sappiamo che dietro a Napoli un po' il ciapano è l'unica discriminante tra essere in coppo o no per le cinque squadre sotto Napoli e appunto il discorso del verdetto del collegio di garanzia del CONI perché sotto Atalanta a 45 ipotizzando anche la Juventus dovesse vincere però poi dietro all'Udinese alla Fiorentina al Bologna tra 37 e 38 punti si è creato un pochino questo blocco queste sette sorelle un po' malconce ma sono un po' tornate quindi ripeto fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate scusate le sei sorelle perché Napoli ripeto è la sorella un po' maggiore che è già famiglia che ha già figli e che vive già fuori casa vi mando quindi un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi